Ma tu come fai ad esigere il certificato vaccinale se i vaccinati con la seconda dose sono il 2-3%? Ben trovati, si fa sempre più consistente in Europa l'idea di adottare un passaporto vaccinale. Cos'è un passaporto vaccinale? È un passaporto nel quale si certifica che uno ha fatto il vaccino. Perché si è pensato a questa cosa? Per favorire gli Stati soprattutto nei quali il turismo è una risorsa fondamentale. Tant'è vero che hanno aderito entusiasticamente l'Italia, la Grecia ed altri paesi per i quali il turismo è risorsa non fondamentale ma primaria addirittura. Paesi che vivono una grande parte del loro PIL grazie al turismo. Quindi potrebbe sembrare una misura, diciamo così, che non ha controindicazioni. C'è da uscire dalla crisi economica, si dà un passaporto vaccinale, chi se lo fa è libero di circolare ovunque, chi non se lo fa, viceversa, se ne sta a casa, semplificando. A parte che questo passaporto, così come è stato concepito, non è che prevede che chi non lo ha fatto, cioè i non vaccinati, non possano viaggiare. Prevede però che chi avrà questo passaporto potrà viaggiare con molta più semplicità. Che significa? Che non gli verrà fatto il tampone, che nel caso di positività non dovrà fare la quarantena, perché avendo fatto il vaccino non gli avrà fatto il tampone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in sostanza chi non è vaccinato avrà più difficoltà. Andiamo a vedere qual è la situazione delle persone vaccinate in Europa, perché altrimenti il ragionamento rimane monco e di ragionamenti monchi ultimamente se ne sentono anche troppo. Allora, questa è la percentuale di coloro dei cittadini europei che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Sapete che a parte la Johnson & Johnson, che è in approvazione, tutte le altre richiedono due dosi a distanza almeno di 20 giorni. Quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Europa, scusate, sono il 4,3% dei cittadini europei. Pochissimo. Quelli che sono in attesa di ricevere la seconda dose è lo stesso 4,3%, ovviamente ha fatto solo la prima dose. Viceversa, quelli che hanno ricevuto la seconda dose si abbassa ancora di più, perché siamo al 2,3%, non dei cittadini italiani, di tutta Europa, ma tu come fai ad esigere il certificato vaccinale e a pensare in questo modo di promuovere il turismo se i vaccinati con la seconda dose sono ad oggi il 2,3%? Lo fai per favorire il turismo, che si sviluppa sostanzialmente nei mesi estivi. Quindi tu pensi che di qui a giugno, diciamo così, tu avrai vaccinato in Europa una quantità tale di persone che dal 4,3% arriverai, non lo so, al 60, al 70. Obiettivo francamente abbastanza irragionevole, viste tutte le difficoltà che abbiamo avuto e visto il fatto che la Presidente della Commissione Europea, lei stessa, la Ursula von der Leyen, ha detto che abbiamo sbagliato, ha detto addirittura una frase che è irricevibile, non pensavamo che fosse così complesso, cioè la signora non pensava che fosse così complessa la soluzione del principale problema che abbiamo oggi in Europa, e cioè vaccinare le persone in modo che si crei l'immunità di greggio e si possa tornare alle attività economiche e della vita quotidiana come prima. Allora a me viene in mente una similitudine. Mi sembra come in Italia che si chiudono le attività e non si danno i ristori. Quindi tu togli, in virtù del rispetto e dell'esercizio di un diritto costituzionale importantissimo, che è quella alla salute, togli, tra virgolette, un altro diritto che è quella alla libertà di impresa, cioè di proseguire le attività economiche, commerciali, industriali, eccetera, eccetera. Tu come fai a limitare una libertà senza poi dare un aiuto a quelle persone che non si sono cercate? Naturalmente neanche chi ha imposto le leggi ha voluto che venisse il Covid in Italia. È ovvio, tutti quelli che hanno responsabilità pubbliche non avrebbero voluto questa cosa. E quindi si sono trovati costretti a limitare la libertà personale. Ma tu se limiti la libertà personale devi in qualche modo risarcire. E siccome è attività economica, il risarcimento deve essere economico. Ecco, lo stesso ragionamento, secondo me, vale per l'Europa. Benissimo il passaporto vaccinale. Benissimo. Ma tu devi vaccinare. Altrimenti, come ha rilevato un professore di diritto costituzionale, fino a quando non ci saranno vaccini per tutti, prevedere un certificato che consenta di viaggiare o favorire il viaggio a chi è vaccinato crea discriminazioni. Non c'è niente da fare. È così. Vogliamo creare queste discriminazioni? Per cui avremo un'Europa a due velocità sul turismo? I vaccinati e non vaccinati? E quelli che con difficoltà non vaccinati proveranno a viaggiare? Poi li mettiamo in qualche posto separato da quello in cui stanno i vaccinati? Io prendo solo quelli col passaporto? Ma capite che non regge così. Benissimo il passaporto vaccinale, ma prima i vaccini. Alla prossima volta.